Ciao a tutti ragazzi, io sono Quaco e oggi siamo su Minecraft. Raga oggi andremo a creare la nostra vanilla, io lo chiamo comunque, consigliatemi un nome belli nei commenti, ok, king vanilla, vabbè, mettiamola K grande, ok, king vanilla, ok raga, perfetto, mi accettiamo e creiamo il nostro mondo, vai, aspettiamo un'ottima raga che è carica, comunque raga in questo video vorrei trovare qualcosa comunque raga per sentiarci e comunque cominciare il mondo, ok raga aspettiamo un altro po', dai 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 raga aspettiamo un altro po', manco tutto ci metti 3 anni per caricare raga questo anno, e quando fai l'armonia è sempre così, dai però ok raga, vabbè questa cosa non ci serve a niente raga, ok cominciamo a rompere i primi blocchi raga vai rompi questo, rompi quest'altro raga, cioè raga questi sono i primi blocchi della della nostra vanilla, ok, ah questa qua la meschina, questa qua la meschina che è bellissima, questo barretto che assomiglia molto raga la metto in ferro, va bene, va bene raga, va bene, va bene raga, lasciamo stare il tutto, quella era una cosa assurda, non so nemmeno com'è fatto a caderci dentro, comunque raga cioè è bellissimo, il primo video già la moriamo, bene, una bellissima partenza, va bene, dobbiamo prendere quella che riesco raga perché non riesco a prendere tutto, sinceramente, vabbè, io non ce la faccio più, eh no, eh vabbè, ok raga ma fammi vedere qua, vabbè raga, io speravo di andare comunque, eh, in, nella neve raga, con soltanto avevo le bacche dolci che potevo proteggere la casa raga, ah raga per chi non lo sa, le bacche dolci, comunque raga, vabbè, ne parlerò in un altro video che le bacche dolci comunque vi farò vedere le cose che servono più per proteggere la vostra casa al massimo, comunque raga sto prendendo molta, molta legna, per il semplice motivo che una volta fatta la crafting posso craftarmi anche qualcosa, vabbè, ok, mi faccio una bellissima crafting, ok vediamo cosa, ok, faccio due raga, sinceramente mi faccio, mi faccio un bellissimo piccone, vabbè, come al solito dobbiamo sempre fare un poco di di questi, dai facciamo più di 8, ok, mi faccio un'ascia, prendendo un po' di legna, ok, poi mi faccio una spada, vabbè, 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 una pala per scavare la pietra, ok, la pala, vai raga, spacchiamo questo qua, vabbè, vabbè, in questo video non è che vorrei arrivare proprio a creare la casa però almeno qua, vedo qui, in situato, perché allora io sono morto e avevo già qualche roba, e quindi, niente, sì, ok, vai raga, vediamo raga, aspettiamo un secondo solo, ok, qui sotto, qua sotto ci vado, vabbè, raga, siamo, siete troppo fortunati, raga, abbiamo le bacche dolci, vabbè, le bacche, si chiamano bacche dolci o bacche dolci, tutte le bacche, vero? Sì, ok, vabbè, raga, ce la facciamo freddere il copper, nooo, e come faccio a freddere il copper? allora vabbè prendiamo qua prendiamo qualcosa giusto per almeno ok ok raga comunque vorrei fare vabbè raga comunque vorrei fare anche una piccola casetta di una casetta alla roccia raga sarebbe bellissimo comunque raga ora un ascia giusto un ascia giusto per combattere anche per poi raga successivamente farò lo spot direttamente in pietra però vabbè ora non posso aspettiamo raga lo prendo il copper si non male raga sto partendo bene con il copper ok vai vai comunque raga perché non conosce l'inglese il copper è il bruno in poche parole raga un minecraft italiano non so come si mette l'inglese però vabbè io ragazzi l'italiano si chiama sceglie di pietra infatti molti youtuber c'erano l'inglese però vabbè non so come si fai ok così come lo prendo per fare il letto giallo però ragazzi è ancora più contento se tipo la faccio il letto rosso perché mi piace di più raga sinceramente ok vai 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 sopra vai sopra vai sopra vai sopra vai 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 ok raga vai per esempio quanto siamo questa palla prima volta raga che la usiamo io me la sono graffattata per nulla sembra ok ok e dai però vabbè ma ma perché stavo spaccando qualcosa stavo spaccando con l'albero per questo la camera non si vedeva niente poi stavo spaccando con l'albero ho detto ma perché ci mette così tanto stavo spaccando con l'albero la pietra cioè ok dai andiamo alla terra forse la terra che dopo di sì vabbè facciamo qua per non caderci ok dai ragazzi siamo stati fortunati perché abbiamo le bacche dolci vabbè potrei posso prendere anche con le mani d'altro le bacche dolci ok vabbè raga questo qua lo buttiamo dentro non ci serve raga se faccio questo del bacche dolci prendo danno quindi raga per darvi la dimostrazione che fanno danno comunque raga io le prendo sia per protezione vabbè questo pelle di coniglio le potrebbe servire andiamo ok raga dai uccidiamo qualcuno vieni qua pecola per fare il letto forse almeno posso passare la notte presto ok poi e poi raga comunque non ho messo che mi si mantieni l'inventario quindi devo stare attento invece raga come si mette che mi mantieni l'inventario raga stai più tranquillo non dico che mettendo che si toglie l'inventario stai perdi non è che hai paura comunque dai raga io me ne vado nel deserto vabbè questo qua ma vabbè raga non so cosa da ma cosa si da acquisto vabbè alla volpe non so vabbè comunque raga vai nuotiamo nuotiamo dai raga almeno vi trovi qualcosa vediamo dai raga questa parte mi piace ok vai vai raga comunque sì dai mi piace che c'è molta sabbia questa zona sì raga mi piace molto che c'è la sabbia per fare le finestre le prendo un po di sabbia per fare le finestre e poi raga anche per per fare qualche muro di sabbia raga comunque lo so raga che le muro di sabbia sono inutili però le metto come piestano raga comunque qui vede un botto di sabbia almeno mi dà qualcosa ok qui raga siamo ancora nomadi siamo ancora nomadi non possiamo farci comunque dai raga però dai qui è bellissimo dai mi piace raga con l'isolotto mi comincio mi comincio perché c'ho vicino una bellissima foresta per prendere la legna poi raga se qui tolgo un poco e mi faccio un bellissimo isolotto c'è dai raga mi piace però non vorrei farlo con la con la cosa l'isolotto vorrei fare con la terra più bello perché raga comunque questo qua puoi cadere giù quindi ok a parte che me lo prendo e poi raga voglio fare questo isolotto però per raga comunque qui faccio tutto un ponte di sabbia perché il materiale che ho di più che poi porta qua che poi porta sopra che poi porta tutto il resto della cosa raga ok ok raga dai abbiamo preso il coso rosso ci facciamo anche il letto vai per il letto ok va raga prendiamo tutto quello che troviamo ok prendiamo anche un po di legno per la casa ok ok prendi prendi questo vai sopra vai sopra vai sopra vai sopra vai sopra vai salta 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 Vabbè, non ci deve senso, ok, no vabbè, ok, ok comunque raga, torniamo alle cose, ci facciamo comunque, cominciamo a fare lì sotto, ok, ok, qua dovevo cominciare lì sotto, ok dai raga, prendiamo qualche bacca dolce, che ci serve, comunque raga, attorno vorrei mettere le bacche dolci, attorno, ok dai raga, l'argilla non fa a me male, un po' di argilla, ok, ce la faccio spaccarla con le mani, che dovevo dire sì dai, sì dai ce la faccio con le mani, ci metto trimmissimo e ce la faccio, ok raga, mi piace anche un po' di argilla, no, raga no, no raga no, vabbè, cominciamo a farci lì sotto qua, ok, 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 no, Vabbè raga, ora arriva la notte, come faccio qua raga, ad andare via con le mani, vabbè raga, dormiamo, dormiamo, prendiamo un piccolo letto e ce lo graffitiamo raga, ok vai, raga ma dovevo andare a cercare una pecola, ma dove sta la pecola, ma quanto, quanto, no vabbè lo so, dai però, pecola, pecola, c'è raga quando, cerchi una pecola non c'è mai, dai, qua mi riprendo perché devo mangiare, dai raga c'è anche un po' di argilla, ma non mi serve un cavolo, dai raga dai raga dai 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 dai, ora come faccio qua raga, vabbè, vabbè raga, dobbiamo passarla come nabbi sotto le caverne, ma posso dopo anni, se faccio così, Beh, raga, cerchiamo Vabbè, questa è l'uccida perché devi morire Muori, muori Ok, raga, in cerca di una pecola Ma non credo che sia molto facile Ok, la devo prendere alle spalle, raga Raga, 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 raga Ok, perfetto Dai, però, cavolo Dai, raga, però, che cavolo Vabbè, mancatevi Vabbè, raga, ma 500 di loro Odosto, ma come faccio io? Non vorrei dormire subito Ma dai, raga, ma dai, ma dai, raga, dobbiamo scappare Ok, raga, lì sotto non lo facciamo più Dove cercare della lana Non trovo la lana, perché? Dai, raga Dobbiamo cercare almeno della lana Ma trovare la lana, perché almeno posso dormire E saltiamo la notte, raga Perché qui non credo che viviamo, eh Se viviamo ancora un po' raga E poi alla fine perdo il posto bello Che avevo trovato Anche voi vado le spalle, le spalle, le spalle Ok, raga, però Se combatto un attimo Se vado qua sotto Non c'è niente No Però se rimango qua In mezzo all'acqua Può essere alla notte Ma non credo, raga Ma no, no, vabbè Non è possibile Non è anche lo zombie Vieni Muori, muori, muori Raga La notte qua non è molto Tranquilla, raga Non è pacifico Così Non è molto pacifico Ok, dai, raga Almeno troviamo un po' una pecora Dai, almeno una Non si può riempire di mostri Se saremmeno una pecora Cioè, dice Non ne trovi così tante, raga, di pecore Vabbè Stiamo uccidendo 300.000 zombie, però No Si è rotta Allora, raga Come facciamo? A che devo fare? Vabbè Devo usarla per forza in 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 legno Raga, non trovo una pecora Raga, no, no, no Raga, 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 raga Raga, si è muoio per tutto l'equipeggimento, raga Si è muoio per tutto l'equipeggimento Ok, dai, raga Almeno facciamoci una casa attorno Così, almeno Facciamo un po' posto della notte, raga Ok, va, raga, va, raga Va, raga, va, raga, va, raga Dai, prendiamo questo, raga E facciamoci qualcosa tutto attorno Ok, raga Ok, sono salito Meno male Ok, raga Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao, ragazzi Ciao, ragazzi